Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la ricetta del Dalgona Coffee. Questo caffè ebbe una vera e propria esplosione durante la quarantena, quando in uno show televisivo asiatico l'attore Jung Woo chiese ad un barista un caffè. Questo si mise a preparare una cosa davvero particolare. Mischiò caffè solubile, acqua e zucchero insieme fino a creare una mistura di un colore marrone chiaro. Poi ci aggiunse latte e ghiaccio e creò questa meraviglia che l'attore assaggiò e disse che gli ricordava le meredine Dalgona, letteralmente dal coreano, significa lecca lecca coreano. Le origini del biscotto Dalgona risalgono agli anni 50, quando i soldati americani davano dei dolcetti ai bambini coreani. Le mamme di questi bambini, per cercare di rifarli per i loro figli, facevano un caramello, lo bruciavano in padella con acqua e zucchero e poi aggiungevano bicarbonato di sodio. Si creava un composto molto spumoso che poi veniva lasciato a raffreddare, con un coppapasta si facevano delle forme rotonde e si creavano questi biscottini che venivano venduti nei locali come lecca lecca oppure come dolcificante per i caffè. Il Dalgona Coffee è una bevanda fresca ed estiva, facile e veloce da preparare. Iniziamo! Prendiamo del caffè solubile, dove la qualità è indispensabile per realizzare la ricetta. Mettiamo 3 cucchiai, circa 15 grammi, di caffè solubile in una ciotola, dove aggiungiamo 3 cucchiai di zucchero di canna integrale, circa 45 grammi, e 3 cucchiai di acqua fredda, circa 30 millilitri. Mescoliamo a fruste spente per amalgamare bene gli ingredienti, poi montiamo per 2 minuti, fino ad ottenere un composto spumoso, leggero e cremoso. Prepariamo il Dalgona Coffee classico. In un bicchiere mettiamo dei cubetti di ghiaccio, poi riempiamo di latte freddo fino a 3 quarti, e mettiamo la nostra crema caffè. Molto leggera, tanto da ricordare una nuvoletta che galleggia sul latte. Con un cucchiaio spalmiamo fino a coprire tutta la superficie, e per design facciamo dei riccioli. Completiamo con una cannuccia. Un'altra variante più golosa è quella al cioccolato. Spalmiamo del cioccolato fuso lungo i bordi. Aggiungiamo il ghiaccio e il latte freddo. Poi completiamo con la crema caffè. Decoriamo con del cioccolato grattugiato e dei riccioli di crema. Et voilà! Due bevande fresche e golose, perfette per il caldo estivo. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito sia ad assaggio, e adesso gustiamo questi deliziosi dal Buona Coffee. Iniziamo da quello classico. Da una carica pazzesca, è bello fresco, goloso, cremoso, un'alternativa perfetta al classico caffè, perfetto per queste giornate torride. Adesso invece assaggio la variante al cioccolato. Sapete bene che adoro il cioccolato, e in questa variante sta veramente bene, donando quel tocco in più che lo rende estremamente goloso. Insomma, sono entrambi deliziosi, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video! Ciao!